ciao a tutti nuovo video per la prima volta voglio praticamente fare questo video della mystery box allora dato che è il mio primo acquisto della mystery box vi dico già che è andato proprio male e vi farò vedere il perché allora prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al mio canale sempre al mio canale se ancora non vi siete iscritti attivate la campanellina così non vi perdete neanche un solo video lasciarmi un like un commentino qua sotto se volete che faccio ancora questi video della mystery box e consigliatemi dove comprarli poi seguitemi su instagram se volete questo è quello che dovete fare voi e invece adesso io vi faccio vedere che cosa è successo praticamente è la prima volta che acquisto la mister box su amazon voglio precisare questo e dato che ho detto vabbè proviamo trovato questi misteri box di 40 euro ovviamente avevo uno sconto di 2 euro se non mi sbaglio non mi ricordo quanto sconto mi aveva dato e praticamente ho pagato 38 euro la misteri box si sbots comunque vabbè avete capito e allora questa era un diciamo una misteri box di elettronica infatti adesso vi lascio qua la schermata praticamente ci volevano almeno più di tre settimane il pacco mi doveva arrivare il 15 barra 25 giugno e invece mi è arrivato prima praticamente l'undici o il dodici giugno voi l'avete visto nel blog perché mi è arrivato in questo in questa scatola piccolissima per cui avete già visto un pezzettino nel blog sabato che avevo fatto in poco per ore dove vi ho fatto vedere questa scatola e ho detto ma cos'è che c'è dentro non capivo che cos'era alla fine ho capito ed era una misteri box scusate se non so perché ma non riesco a dirlo comunque mi sono ritrovata questa scatolina piccolissima e io ho detto bu per 40 euro due cose che adesso vi faccio vedere che cosa mi hanno inviato ovviamente non potevo sceglierle però avevi praticamente dentro in teoria e telefoni droni cuffie orologio e tutte le altre cose hanno scelto loro mi sono arrivate queste due cose che sono rimasta c'è ok può essere che queste due cose costano 40 euro però ho visto delle youtuber che facendo questi video spendendo 40 50 euro che ne so trovavano tantissime cose per cui gli arrivava proprio lo scatolone enorme invece questo è quello che mi è arrivato a me e sono stata proprio un po delusa perché ho detto mi hanno truffato cioè mi hanno praticamente ho speso 40 euro per due cose che non ne valgono 40 euro comunque adesso le faccio vedere che bella scatolina comunque vi faccio vedere il primo che è questo questo qui c'è scritto fitness tracker aprendo la scatolina vi faccio vedere che c'è dentro un orologio io a prima non l'avevo capito quando l'ho aperto vi faccio vedere com'era in questa clip vi faccio vedere com'era dentro l'orologio io adesso l'ho utilizzato l'ho provato l'ho usato a vedere se funzionava sia le cuffie che l'orologio per cui in poche parole l'orologio si presentava così messo bene no io vi faccio vedere l'orologio vi dico in breve se dura se bello se buono e se ne vale la pena perché secondo me questi orologi possono costare 30 euro anche di meno ma questo orologio non ne vale 30 euro secondo me comunque dentro la confezione a parte l'orologio che era cioè io adesso l'ho montato perché ho messo diciamo il cinturino dentro c'è il caricatore che anche questo caricatore stranissimo mai visto in tutta la mia vita è praticamente una pinza dove dentro ci sono due linette piccoline non so come spiegarvelo comunque lo capite che qua dentro va messo la parte dell'orologio in poche parole dietro l'orologio fatto così e va messo dove ci sono questi due gancini qua ed è un caricatore un po strano però questo il caricatore ho trovato il caricatore dentro con le istruzioni le istruzioni sono in inglese e in cinese questo è l'orologio ovviamente io non capisco il cinese e non capisco l'inglese per cui devo tradurlo solo che anche con la traduzione non è tanto facile perché non si capisce bene però diciamo che un po lo smanettato ho provato a utilizzarlo a vedere la batteria quanto dura e diciamo che la batteria dura per tre giorni ma la pena in teoria dovrebbe durarmi in una settimana però vabbè a me mi dura tre giorni e praticamente si presenta così il cinturino è accalamita adesso vi faccio vedere che accalamita questo è il cinturino ed è accalamita è nero qui ho la pellicola infatti adesso vi faccio vedere tolgo la pellicola così almeno lo vedete meglio e questo è l'orologio non so se si vede comunque mi dice quante ho quante ore dormo il mio battito poi mi sembra che c'è anche diciamo quanti passi fai le impostazioni che ti arrivano i messaggi su whatsapp ti arrivano le chiamate per cui già è buono perché ti arrivano le chiamate poi ti dice se è nuvoloso quanti gradi ci sono poi ti dice le calorie perse quanti passi fatto basta e poi ti dice la batteria ovviamente poi è tramite un'app che tu scarichi tramite telefono e sinceramente lo controlli anche su su quell'app lì questo praticamente è l'orologio che mi è arrivato in poche parole come mistery box questo è la prima cosa per cui sinceramente non ne vale la pena comunque lo stesso fatemi sapere sotto in questo video se volete la recensione di questo orologio touch che ve lo farò nel video precedente scusate se faccio così ma sto morendo di caldo non ho acceso l'aria condizionata perché sennò sentite il rumore e poi il video verrà male poi andiamo avanti seconda cosa che ho trovato sono queste cuffie wireless sono così questa è la scatola in poche parole queste ancora non le utilizzate ma so che funzionano praticamente si presenta con cuffie e caricatore qui adesso io le tiro fuori perché tanto poi le devo usare queste sono le cuffie touch che lo accendi con il dito praticamente sono fatte così questa è la custodia dove la apri e carichi dentro adesso io dovrei caricarle perché adesso mi cadono dovrei caricarle perché secondo me sono scariche per cui io le metto così ah no mi dice che sono cariche al 70 per cento questa è la percentuale della batteria praticamente mi dice quanto sono cariche e dietro c'è il coso per caricare praticamente abbiamo sia le cuffie nuove che il caricatore che questo qua che va caricato ovviamente testerò anche queste ci sono anche le istruzioni ma di sicuro saranno anche questi qua in inglese giustamente e niente questo sono quello che trovi dentro le cuffie in poche parole adesso mi dice 69 per cento di batteria sono comode perché le puoi portare ovunque le puoi caricare poi sono senza fili per cui tu basta che metti nell'orecchio in poche parole si illumina perché diventa blu e rosso se rosso vuol dire che sono scariche e te lo segno anche qua se è blu vuol dire che sono cariche è facile da metterle dentro qui basta metterle così e poi chiudete e si caricano queste sono quelle che mi sono arrivate queste questo costano sui 10 euro io le ho comprate a mio fratello lo stesso modello praticamente uguale però alla custodia più piccola più rotonda lo comprate a mio fratello a 10 euro si potrebbero essere buone ovviamente dovrei testarle però diciamo che per 40 euro io pensavo che almeno mi davano più cose invece di inviarmi solo due cose allora ovviamente sono cose utili perché a me mi serviva l'orologio mi servivano le cuffie wireless per cui diciamo che non è male per cui non sono 40 euro spese così per niente però pensavo un po di più di oggetti solo questo calcolate che il sito che io ho acquistato su amazon non c'è più non esiste più l'hanno cancellato questo sito qua dove ho acquistato per cui secondo me quando un una persona fa i siti e poi vende questa roba in un giorno e cancella il sito cioè cancella proprio il profilo vuol dire che secondo me è una truffa che non è che sono cose mi è successo anche su adesso mi ricordo su wish mi sembra o al espresso non mi ricordo dove comunque che mi hanno truffato io ho acquistato un oggetto e dopo un giorno quel venditore non c'era più c'è praticamente sparito e ha cancellato il profilo come ho fatto praticamente questo per cui secondo me anche qui sono stata truffata secondo me perché 40 euro potrebbero valere le cuffie 10 euro ma anche se vale 10 euro la cuffia che ho già controllato su amazon va allungono 10 euro l'orologio non ne vale 30 euro ne vale molto di meno per farmi capire per cui sono stata un po delusa un po così così per cui questa è la mia prima mistery box un po molto delusa sotto nei commenti fatemi sapere quale mistery box posso comprare quale dove che praticamente è un sito affidabile dove posso comprare e ricevo tante cose dentro al allo scatolone e non solo due cose perché 40 euro per me sono tanti per ricevere solo due cose cioè per cui meno male che non ho speso 60 euro perché se spendevo 60 euro secondo me mi ritrovo sempre due cose su amazon ho pensato di acquistare su ebay di provare acquistare su ebay o non so dove però voi fatemelo sapere lo stesso sotto in questo video dove comprare la seconda mistery box che secondo me questi video sono molto belli infatti è il primo video che faccio e spero che questa tipologia di video vi piace così almeno scopriamo anche noi tutti noi insieme nello scatolone negli scatoloni quando io prendo diciamo queste cose di trovare qualcosa di utile o qualcosa di bello comunque fatemelo sapere qui sotto dove posso acquistare un'altra mistery box che però ci siano dentro più cose credo che avete capito allora per non delungarmi oltre scusate se un video un po così ma volevo farvi vedere cosa mi è arrivato preso su amazon e niente spero che lo stesso questo video vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate voi se era giusto ricevere solo due cose o potevano mettere anche un po di più detto questo noi ci vediamo al prossimo video aspetto tutti i vostri commenti qui sotto e mi raccomando iscrivetevi se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao